Altro incontro con Giovanni Matera. Davvero sono tanti i nostri incontri perché tantissimi sono gli spunti che ci provengono dalle sue lezioni di marketing, dai suoi corsi di formazione. Giovanni Matera è un imprenditore, titolare della Matera Arredamenti, però devo dire che il tema che affronteremo oggi mi sta particolarmente a cuore, è quello della cosiddetta fuga dei cervelli. Davvero è peccato, soffriamo quando vediamo, posso dire anche un cardiochirurgo tarantino che è diventato una eminenza a livello di cardiochirurgia appunto negli Stati Uniti d'America e poi i compagni di infanzia se lo ricordano quando giocava con loro con i calzoncini corti. Abbiamo perso una mente. E infatti l'Italia si svuota, esportiamo laureati e professionisti. Si legge nella cassetta degli attrezzi. L'Italia esporta giovani brillanti, laureati, ricercatori, professionisti qualificati che arricchiscono il paese che li accoglie. La loro formazione ha avuto un costo per l'Italia che investe circa 130 mila euro pro capite per l'intero percorso di studi fino alla laurea. Un patrimonio che però andrà a vantaggio di altri, l'Inghilterra prima di tutto, ma anche la Francia, la Germania, l'Australia. Come arginare Matera questa emorragia di cervelli? Evidentemente c'è una offerta scadente in Italia dal punto di vista degli stimoli, della formazione, dell'aggiornamento, anche della retribuzione che fa sì che la gente fugge. Ci sono diverse concause. Uno è il sistema formativo, addetto anche degli stessi insegnanti. In effetti quando io parlo con loro, anzi io terrò fra una settimana nell'ambito alternanza scuola lavoro, una classe di quinta e una classe di quarta, andrò a parlare ai ragazzi. Parlando con le prof, loro stessi dicono che noi come scuola insegniamo soltanto il sapere ma non il saper fare. E questo è il problema. Poi il sistema formativo nostro insegna delle persone solo il nozioni, il nozionismo. Poi queste nozioni si vanno a scontrare con un sistema invece imprenditoriale italiano. Noi abbiamo un sistema imprenditoriale italiano che il 95% è fatto di piccole e medie aziende, dai 3 ai 15 dipendenti. Quindi noi non possiamo assumere una figura, un esperto in marketing, un matematico nelle nostre aziende, perché non ce lo potremmo permettere. Mentre le aziende francese e tedesche hanno una struttura diversa, che vanno dai 50 ai 100 operai, ai 500 operai, dove quella figura può essere inserita. Tra l'altro, come ho detto in un altro appuntamento, queste persone che escono soltanto piene di nezionismo, non vengono non gli insegna mai nessuno, la scuola non gli insegna a creare nuove aziende. Quindi non possono neanche mettere su aziende per poter rimanere in Italia, così magari potevano rimanere in Italia e creare qualcosa di loro in Italia. Sono costretti a partire perché possono trovare sbocco soltanto in questi paesi qua. La soluzione c'è, bisognava inserire, come fanno già in Francia, in Germania, già dai 15 anni. Esiste già la materia dello studio dell'imprenditorialità all'interno della scuola, dove io istillo già alcuni concetti al ragazzo. Poi non è detto che deve fare l'imprenditore, un domani potrebbe non fare l'imprenditore, ma intanto andiamo a salvare su 100, 2, 3, 4 ragazzi che hanno quella predisposizione. Ma essendo proprio che è assente questo concetto, però non se ne parla nemmeno, ci perdiamo anche quei 3-4 ragazzi che li avremmo avuti come imprenditori e potevano rimanere in Italia. Lei pensa, Matera, che si potrebbe invertire dalla rotta? Certo, parliamo di politiche da attuare. Senti, è un po' complicato perché tutti veniamo fuori da questo sistema, le prof vengono fuori da questo sistema e quindi ragionano da dipendenti. Gli onorevoli che noi mandiamo al Parlamento comunque vengono fuori da questo sistema e quindi ragionano sempre da dipendenti. Poi io non voglio essere maligno. Il sistema vuole questa situazione perché non è un caso che hanno tolto applicazione tecnica dalle scuole medie. Io mi trovo a fare il falegname, mi sono trovato a fare il falegname, voi imprenditore, perché ho avuto a che fare con i legni, il professore ci spiegava i legni. Mia moglie ha fatto per 30 anni abiti da sposa, ma perché ha imparato all'interno delle scuole medie a ricamare, a fare queste cose qua. Hanno tolto i professionali dove erano le maestranze a insegnare i propri mestieri a questi ragazzi. Hanno tolto tutto. Praticamente è rimasto soltanto il nozionismo. Secondo me è anche voluto perché dobbiamo essere dei ragazzi belli e obbedienti a un sistema. E mi fermo qui.